Questa misura gli permette di portarsi in testa previsionemente alla gara. Vediamo se riuscirà a mantenere la concentrazione necessaria a questo giovane atleta. Direi proprio di sì. Fa sua la misura di 81 kg, molto agevolmente, e mette in chiaro le cose con i diretti avversari. Pianciere sale a 82 kg. E' la volta di Krupla, seconda, sulle note latine che accompagnano l'atleta in pedana. 85 kg in seconda prova per lui, cercare di far sua l'opportunità di una medaglia. Ce la fa Jamadov, sicura l'alzata, 85 kg. Adesso tutto passa nelle mani di Papejan, Zranik, così 88 kg richiesti per questa terza prova. Ritorna in pedana Jamadov. Terza prova decisiva per quest'atleta a Zerbejan per portare la posizione più alta. della più alta i colori della propria nazione, fatta in questo momento. Ottima risposta di Jamadov all'ottima balzata di Limov. Si va a comporre il podio nell'esercizio dello strappo, in prima posizione la Zerbejan con Jamadov a 88 kg. Seconda posizione, seconda posizione della Teta Bulgoro, di Limov. è il podio nell'esercizio dello strappo, in prima posizione la Teta Bulgoro. E' il podio nell'esercizio dello strappo, in prima posizione la spiana di Bilov. per la loro prima prova. Insomma, mettere così in chiaro Giavador, silevando agevolmente questa misura, lasciando l'incompensa ad altri. In questa prova Giavador si porta in testa la classifica provvisoria, sia dell'esercizio che del totale. Siamo alle battute finali, ancora quattro provi, compresa questa. Giavador completa la prima parte dell'esercizio, regalamento è spinta, ci sta tutto, giudizio arbitrale, usata a Giole, cento decrogrammi per lui. Un punto fallendo, medana Giavador. Due versate a termine di questa sessione di gara, entrambi a 107 kg. 30 a 0, cerca di contendere il filo all'ultimo. La medaglia pregiata al 30 rumeno, niente da fare, non riesce alla risalita, con bilancene caricato a 107 kg. E vediamo un po'. In colorezche da fare, 12.8 kg.loctman Networks europei, прогuette su leader in Santa Teresa e Susant Adaro, Italiano, 2018 A First, I would like to introduce Grazie a tutti i generali presentatori. Mr. Topic Haidaro, vice presidenta dell'Azerbaijan, General Secretario dell'Azerbaijan, Mr. Aleksandru Padure, Vice Presidente dell'Italia dell'Azerbaijan, Mrs. Maria Rosa Leiva. A first victory ceremony in Tota, is a place with bronze medal finish, Grubla Prodentospin Romalia, with 185 kg. Senior medalistis Ivan Dimo, Bulgaria, with result 189 kg. And the European champion. The winner gold medalist is Omar Zavarova. Ladies and gentlemen, this lies to God of the winner's legs, between the national anthem of Azerbaijan. Azerbaijan... . . . . Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.